Tra i diversi temi affrontati in modo serio e concreto dalla legge sulla sanità approvata in Consiglio regionale vi è la stabilizzazione delle sperimentazioni gestionali virtuose, a partire da vari argomenti come quello sulla cronicità o sull'innovazione tecnologica. In particolare la legge sulla sanità approvata consente di autorizzare, accreditare e contrattualizzare quei gestori delle sperimentazioni laddove si sono prefissati degli scopi e sono riusciti a raggiungerli. Direi che Regione Lombardia anche su questo tema come quello delle sperimentazioni non solo c'è ma dà risposte concrete ai cittadini lombardi.